Buongiorno, io sono Marina Portasoni e insegno anatomia umana al corso di laurea di medicina e chirurgia. Per essere un medico servono forza, resistenza, metodo, serve tanta tenacia e serve amare quello che si sta facendo. Serve sapere e ricordare che quando si è medici si è studenti per sempre, perché la medicina è un continuo divenire, un continuo scoprire. E tu? Tu vuoi fare il medico? Fallo, fallo davvero, però prima di farlo, prima di scegliere questa strada è opportuno che tu sappia alcune cose. Primo, per entrare c'è un test di ammissione che richiede alcune competenze in ambito biologico, chimico, fisico e matematico. Secondo, è una strada lunga, sono sei anni di corso ai quali dobbiamo far seguire o una scuola di specializzazione o un corso di formazione per medici di medicina generale. Terzo, è obbligatorio frequentare sia le lezioni che i tirocini, quindi il tempo libero sarà poco. Quarto, gli esami sono tanti, sono corposi, richiedono studio e impegno. Quinto, devi sapere che fare il medico non significa fare il medico, ma essere un medico e che si è medici sempre. Vuoi ancora essere un medico? Fallo, perché è il mestiere più bello del mondo. Fallo, perché essere un medico vuol dire fare la differenza. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Giulia, frequento il secondo anno del corso di studio in medicina e chirurgia. Lo studio di medicina è uno studio faticoso, ma è una fatica piena di scoperte che non smettono mai di stupire. Dal primo vetrino, proprio in questo laboratorio, in cui tutta la nostra complessità era chiusa in pochi millimetri, fino alla prima lezione di semiotica, in cui ci viene insegnata la cura al paziente e con giorno ci sarà affidato. Ciao, sono Ilaria e frequento il terzo anno del corso di studi di medicina e chirurgia. Ho deciso di intraprendere il corso di studi di medicina perché ho sempre notato in me una certa predisposizione a conoscere e a scoprire. In modo particolare, durante l'ultimo anno del liceo, mi sono appassionata allo studio delle scienze e più in generale dell'essere umano nella sua totalità. È stato però solo grazie all'incontro con alcuni medici appassionati del loro lavoro che è nato in me il desiderio di provare a seguire questa intuizione. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Grazie.